Noi sapevamo che siamo usciti da una sconfitta abbastanza pesante con Cittadella, c'era bisogno di subito di una reazione importante da parte della squadra e oggi l'abbiamo fatto, tutto l'importante e siamo contenti. Secondo gol di stagione per te, sei felice anche a livello tuo personale oltre a te di squadra? Sì, molto felice, io sono stato un po' di tempo fuori, ho fatto sacrifici giusti, ho lavorato tanto e oggi il secondo gol è arrivato, spero che tanti altri arriveranno. E' stato un primo tempo equilibrato, si è sbloccata la gara su quell'autocorrete incredibile da parte di Molina ma la differenza l'avete fatta nel momento in cui siete rimasti in inferiorità numerica, sembrava esserci la scossa per l'Avellino invece l'avete avuto a voi, complimenti. Sì, l'espulsione ci ha dato una scossa in più, abbiamo parlato sul campo e sapevamo che ognuno di noi doveva dare qualcosa in più, l'abbiamo fatto benissimo e a inizio del secondo tempo siamo usciti con la cattiveria giusta e la voglia giusta, alla fine abbiamo fatto altri due gol e abbiamo vinto questa partita. Grazie. Grazie.